Io farei un parallelismo tra giovani e meno giovani, non vedo queste grosse differenze, io non mi sento scippato di nulla, anzi, per come la vedo io è chiaro che non ho gli stessi titoli, sono un consulente di lavoro, quindi non sono un medico, non ho gli stessi titoli e competenze per parlare con i due medici qui presenti, però è anche vero che io, per quanto le telefonate da casa, tra l'altro ho notato una certa organizzazione anche nel chiamare, stia dicendo di dittatura sanitaria, di nazismo, penso sia folle parlare di nazismo, di chi non è stato curato, per carità poi è chiaro che accadono determinati episodi, io vengo da Sarmede, quindi vicino a Vittorio Veneto, che è un Covid hospital, dove le persone sono state prese per i capelli per poterle salvare, quindi parlare di dittatura, quando in realtà il personale sanitario ha fatto di tutto per salvare queste persone e colgo anche l'occasione quindi per ringraziare tutto il personale di quell'ospedale, dalla signora delle pulizie al primario, perché io lo trovo grave e soprattutto ho parlato anche con diversi infermiere, le quali appunto hanno cercato in tutti i modi di convincere anche delle persone ormai in terapia intensiva per cercare di vaccinarsi e questo hanno preferito non farlo e poi arrivare a morire, quindi parlare di dittatura lo trovo grave, così come chi paragona il Green Pass alla cosiddetta stella che veniva posta agli ebrei, trovo dei parallelismi folli, dei paragoni folli perché davvero fanno comprendere come non ci rendiamo conto neanche di quello che diciamo, perché basterebbe studiare almeno due pagine di storia per capire che in realtà qui siamo al problema inverso, qui stiamo facendo di tutto per salvarci e lei mi chiedeva l'opinione da giovane, se devo essere sincero è chiaro che ai giovani costa molto sacrificio questo periodo, avrà delle ripercussioni importanti a livello psicologico, parlo io che sono un 28enne ma penso comunque a chi ha ancora meno anni di me, penso a chi ha 16 anni, 18 anni, a chi è l'università che quindi sta perdendo i suoi anni migliori, è vero, però è anche vero che il periodo è un periodo duro per tutti e comunque la gran parte dei giovani hanno capito secondo me la gravità della situazione, poi trovo sbagliato anche fomentare la situazione, io ad esempio leggendo i giornali non ho visto questi scenari catastrofici, si parla sì di contagi in aumento, quello è vero, però si parla di situazioni ospedaliere sotto controllo e quindi è anche vero che non vedo questo catastrofismo da parte dei media e dei giornali, leggo invece ad esempio ho letto di quanto sta accadendo a Hong Kong ad esempio che la popolazione non vaccinata, la gran parte dei non vaccinati sono deceduti, si parla di 3 mila morti nell'arco delle ultime due o tre settimane, quindi una popolazione, quella di Hong Kong che comunque è sui 7 milioni e 4, 7 milioni e 5, cioè 3 mila persone in due o tre settimane sono tantissime, tutte non vaccinate, quindi io ho un'opinione ben precisa a riguardo, mi sono fidato della scienza, mi sono fidato di chi ha le qualifiche e secondo me ora come ora i risultati stanno dando ragione.